Presso la sede dell'Unione dei Comuni della Garfagnana è stato firmato un accordo tra l'ente Garfagnino ed Enel che prevede l'installazione nei comuni che fanno parte dell'ente di nuove centraline di ricarica per mezzi elettrici. Nello specifico, l'accordo prevede il posizionamento di 16 infrastrutture per un totale di 31 punti di ricarica. L'accordo è stato siglato tra il presidente Andrea Tagliasacchi e la presenza anche di alcuni sindaci della Garfagnana e del direttore generale Pinagli e per conto di Enel da responsabile Mobility Italia Federico Caleno per Enel X, la business line del gruppo Enel dedicata a servizi digitali e innovativi, mobilità elettrica, illuminazione pubblica e artistica. L'accordo, oltre a dare un importante servizio ai residenti che già usufruiscono di un mezzo elettrico, darà più valore al territorio dal punto di vista turistico, in quanto verranno installate centraline di ultima generazione, saranno sia di tipo Juiz Pol a corrente alternata oltre a due infrastrutture di ricarica in corrente continua. Queste ultime, anche in base alla capacità della batteria e del caricatore di bordo del mezzo, permettono di effettuare una ricarica completa dai 30 minuti ad un'ora, ma già in un quarto d'ora è possibile ricaricare l'auto per oltre il 50% di disponibilità della batteria. L'installazione e la manutenzione delle infrastrutture sarà cura di Enel X. Soddisfazione per questo accordo è stata espressa da tutti i sindaci della Garfagnana e dal presidente Tagliasacchi, che proietta il territorio verso un futuro ecosostenibile, assicurando ai propri cittadini e frequentatori un adeguato servizio di ricarica per diffondere e promuovere la mobilità sostenibile. Questa intesa conferma l'ottimo livello di relazione tra gli enti locali della Garfagnana e il gruppo Enel.